Sono l'attaccante più forte al mondo, meglio anche di Ronaldo. Il corpulento centravanti brasiliano Fabio Junior Pereira arrivò alla Roma nel 1999 e costò a Sensi 30 miliardi di lire. Raccomandato niente meno che da Zico, presentato come una stella del calcio carioca, in realtà Uragano, fu uno dei più colossali bidoni della storia del mercato. Zeman disse di lui, non sa fare niente e non ha la minima voglia di imparare. Più dei rarissimi gol, appena quattro, di lui si ricordano tre clamorosi lisci sulla linea di porta contro l'Atletico Madrid in Coppa UEFA. Fu cacciato a furor di popolo a fine stagione e mandato in prestito per quattro anni in club che poi si rifiutavano categoricamente di confermarlo. Incredibile ma vero, a 38 anni gioca ancora. È la star dell'America Football Club nella Serie B brasiliana.